Salute da Innsbruck, in Austria. Qui si rende omaggio alle cose più importanti e fondamentali della Nazione. Di tutto questo c'è la mucca, detta anche la vacca. La vacca da tutto qui in Austria. Lo speck, la birra, i prosciuti, fanno tutto con la mucca. E infatti viene reso omaggio in questa meravigliosa location. Viene reso omaggio appunto alla mucca con un monumento. Il monumento ha una cosa che si incontra continuamente nelle scampagnate di montagna, sulle montagne là su. Si possono trovare tantissime di queste cose. E infatti ecco qui il monumento della Proloco di Innsbruck a... La merda di mucca. La merda di mucca. La merda di mucca. Granerna didom Katerina La merda di domande. La merda di domande.